L'orologio da polso Conquest rappresenta una pietra miliare nell'universo dell'orologeria di alta qualità. Con un mix di design sofisticato e ingegneria di precisione, il Conquest incarna l'essenza dell'eleganza e dell'avventura. La storia del Conquest risale agli anni 50, quando la Longin introdusse questo modello come un orologio sportivo versatile e raffinato. Da allora, il Conquest ha continuato a evolversi, abbracciando l'innovazione e l'eccellenza. Questo modello rappresenta l'incontro tra la tradizione orologiaia e la modernità dell'ingegneria, unendo estetica e funzionalità in un unico orologio da polso. Il design del Conquest è caratterizzato da linee eleganti e dettagli sofisticati. La cassa spesso presenta curve sinuose e finiture impeccabili, creando un aspetto che cattura immediatamente lo sguardo. Il quadrante spesso è arricchito con indici luminosi e lancette ben leggibili, riflettendo l'attenzione ai dettagli e la leggibilità dell'orologio. Con funzionalità avanzate, come il cronografo e il calendario, il Conquest è pronto ad affrontare qualsiasi sfida con stile e affidabilità. Il fascino del Conquest ha attratto celebrità di fama mondiale, che lo hanno scelto come accessorio di stile. Un record degno di nota è stato stabilito attraverso la collaborazione con competizioni sportive di alto livello. Il Conquest è spesso selezionato come partner ufficiale di eventi e gare prestigiose, dimostrando la sua precisione e affidabilità anche in contesti di grande pressione e competizione. In sintesi, il Conquest è molto più di un semplice orologio da polso, rappresenta l'essenza dell'eleganza e dell'avventura. La sua storia di innovazione, il design affascinante e le numerose collaborazioni lo rendono una scelta di stile e funzionalità. Con la sua storia avvincente, il design sofisticato e la dedizione all'eccellenza, il Conquest continua a risplendere come un'icona di prestigio nell'universo dell'alta orologeria. Scegliere il Conquest è abbracciare una fusione di stile e funzionalità che ha affascinato il mondo dell'orologeria per decenni.